Emilio Giannelli non fa sconti a nessuno, quindi non si può ricorrere alla clemenza del vignettista e della satira. Niente sconti, Ferruccio, perché io sono un ex ormai, quindi non ho niente da chiedere. Quindi parlo da ex. Mai dire mai. Come? Mai dire mai. Ma sì, sì, tu lo dici. Buonasera, che onore, io non so se non è il presidente. In questo momento forse sarebbe meglio che stesse davanti a noi a vedere chi. Esatto, vai. Buonasera, presidente. Buonasera. Buonasera, fin a vista ci si vede. Grazie, fin a vista. Perché le vignette di Giannelli mi piacciono molto? Intanto sono essenziali, non ci sono personaggi in più, non ci sono battute in più, parole in più. La vignetta è lineare e immediata, questo è importantissimo, è immediata, fa ridere, fa pensare. Il tono è scansonato, ma non è feroce. Tutto bene, è benissimo, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale. Giannelli divide il mondo in due categorie, ci sono i potenti e ci sono i normali. I potenti sono quelli che contano e i normali sono quelli per cui la realtà è così, come dire, è così superiore a loro che la guardano da normali, appunto. Tutti noi vogliamo essere belli e identifichiamo la bellezza con la simmetria. Il potente è più vanitoso degli altri, fuori discussione, ed è anche uno o una che tendono a vedere cose che non esistono, cioè a dire a vedersi anche più belli di quel che sono. Ed ecco che Giannelli entra e distrugge la simmetria con la sua deformazione caricaturale, sembra riportare il potente coi piedi per terra e dirgli, ma scusa, ma ti guardi mai allo specchio la mattina? Io, come ho visto, riesco a guardare al potere o al noi potenti, io mi sento parte di quella recita solo sullo Stato. Ora non sono più, per chiarire. E poi non posso dimenticare tutti i draghi che Giannelli mi ha dedicato nel corso di una vita, i draghi che uccidono i serpenti, i draghi che fustigano, i draghi che guidano bighe tirate dai politici del momento e così via. Quindi anche questo per me è una fonte di veramente di grande felicità quando aprivo quelle vignette e vedevo questa rappresentazione di me stesso sotto forma di drago. Qualche volta qualche obiezione arriva, qualche discussione ogni tanto ce l'abbiamo avuta. Ho ricevuto una lettera da Schifani che protestava perché l'avevo fatto con il riporto quando si era già tagliato capello. Ma con la carta intestata il presidente dice ho una pettinatura più giovanile, più consona alla mia. Io rimasi perplesso. Io di questa volevo parlare, questa è meravigliosa. Ma tu che gasso vuoi? Anche perché eri visto oggi. No, non mi ha fatto veramente nessun effetto, nel senso che quello era il mio dovere in quel momento. In quel momento, in quel momento rapidissimo, perché era la prima settimana della guerra, dovevo fare il più possibile di accordi internazionali per assicurare l'autosufficienza italiana del gas rispetto alla Russia. Era importantissimo svincolarsi il più presto possibile dalla Russia e dovremmo rimanere tali. Cioè la dipendenza che noi avevamo... Basta, non voglio farlo... Ma no, finiamo! Andreotti, posso raccontare una cosa? Mi scrisse un biglietto in cui c'era scritto La ringrazio del libro che mi ha inviato e le auguro tutto ciò che si merita. Io feci una nuvola con due Andreotti, uno angelo e uno diavolo. E il diavolino che portava la torta con le cento candeline diceva a metà per uno. Il giorno dopo mi telefona il figlio di Andreotti e mi dice la ringrazio a metà. E io gli dissi grazie del ringraziamento a metà, ma lei è tutto il suo babbo. Insomma, leggere il libro è un grandissimo piacere che però è inferiore soltanto al piacere che proveremo domani a vedere la vignetta che Giannelli ci darà domani. Grazie. Grazie. Grazie.